Una vita anticipazioni. Marcelo salva la vita a Enoveva. Il grande segreto di Hortensi ha rivelato. Jacinto e Azusena lasciano il quartiere. David scopre che Ramone e Fidel sono i loro rapitori. Momenti di grande tensione, che farà emergere le emozioni durante queste ultimissime puntate di una vita. Aurelio cerca di porre fine alla vita di Genoveva. Aurelio, dopo aver scoperto il tentativo di suicidio della moglie, le chiede spiegazioni per aver voluto commettere un atto del genere. Enoveva le dice che preferisci morire che mettere al mondo un figlio suo. Le cose tra loro si fanno troppo violente e il messicano cercherà di uccidere la signora. Marcelo ferma il Quesada prima che metta fine alla vita di sua moglie. Hortensia ordina a Pasqual di non dire che si sono baciati. La signora sarà determinata a tenere nascosto quell'amore, poiché nasconde un segreto e non vuole che venga a galla. Tuttavia deciderà di raccontare a sua figlia la verità. Inizia dicendole che la ragazza è nata fuori dal matrimonio. Poi spiega che è rimasta incinta, del suo fidanzato che è partito per la guerra ed è morto al fronte, senza sposarla. Hortensia ha scelto di nascondere quella vergogna tutelando sua figlia e il resto della famiglia. Maruxina torna ad Acacias ma ha ancora una distorsione e non sarà in grado di servire. Alodia sarà infastidita da questa situazione. Valeria e David organizzano la loro partenza dal quartiere. La donna racconta ha esposito i piani di vendetta del marito nel confronto di Aurelio. Il giorno successivo il due innamorati preparano le valigie e sono finalmente pronti per lasciare Acacias per sempre quando all'improvviso alcuni individui portano via David, senza che Valeria possa fare nulla per impedirlo. Nonostante questa insolita situazione, nel bel mezzo del rapimento la pianista riesce a vedere i volti dei rapitori e uno di loro gli sembrerà abbastanza familiare, poiché si tratta proprio di Fidel. Valeria è sotto shock, viene subito aiutata da Lolita e da Fabiana, che le danno qualcosa da bere e cercano di rassicurarla. Valeria le dice che David è stato rapito da alcuni uomini, tra cui Fidel, Lolita non sa bene cosa pensare. Nel frattempo, David scopre i volti dei suoi rapitori e sarà sconvolto quando scopre che Ramone e Fidel vogliono ucciderlo. A Zucena, dopo il fallimento, per entrare al Teatro Real, proverà un'audizione per il Balletto di Parigi. Per la ballerina questa è una occasione unica e non ha intenzione di farsi scappare. L'audizione si rivelerà un successo. Ciò significa che la giovane dovrà lasciare la Spagna, per far parte della compagnia, racconta tutto al fidanzato Guillermo, che non saprà se accompagnarla o restare in città con la sua famiglia. Anche Iacinto si unisce alla lunga lista di abitanti che lasciano il quartiere. Dopo aver ricevuto un'offerta per diventare sindaco del suo paese, parla di questa proposta con sua cugina Calzilda e decide di salutare per sempre il quartiere. I vicini organizzeranno una festa per salutare il simpatico Portinaio. Nel frattempo, Marcelo, insospettito dall'atteggiamento ambiguo della cuoca, si metterà ad indagare su di lei. Dopo aver notato che l'usdivina riceve delle lettera di un misterioso individuo, decide prima di interrogarlo e poi, non avendo ricevuto le risposte sperate, prova a scoprire cosa sta nascondendo l'amica. Quel stesso giorno l'usdivina esce con un uomo misterioso, senza sapere che Marcelo la sta seguendo. Quando rientra al piano nobile il maggiordomo chiede spiegazioni. Ia cuoca e lacrime confessa che si tratta del suo fratello Iginio e che la sta ricattando. Alvarez Hermoso, invece, capisce le vere intenzioni di Dori e decide di perdonare la donna. L'avvocato dopo una lunga riflessione riconsidera le azioni dell'infermera e chiede scusa. Quel momento sarà suggellato con un tenero bacio tra il due. Le anticipazioni terminano qui, per non perdere altri video iscriviti al canale.